Da tre generazioni i mastri vinai di Villa Gianna hanno scelto lo splendido territorio tra Sabaudia e Ciceo come punto di inizio della propria vigna nel 1960, una vigna vicino al mare e che di esso si alimenta per un vino dal gusto inconfondibile. I vigneti della famiglia Giannini sono situati nell'agropontino, una vasta e rigogliosa pianura divenuta terreno fertile grazie all'opera di bonifica che negli anni 1930 trasformò la palude in terra ricca e fruttifera. Un amore speciale per le terre pontine, la tecnologia di vinificazione, la qualità delle uve e l'esperienza dei fondatori fanno della cantina Villa Gianna un'impresa dal valore unico condotta appunto dalla famiglia Giannini. Dagli anni 1980 la sperimentazione di qualità mai interrotta nell'agropontino ha selezionato nuove cultivar valorizzando un ambiente ideale per le uve perché arricchito dall'esposizione continua al sole dall'alba al tramonto e dalla continua brezza marina che dona la tipica e senza salmastra in pronta tipica pontina. Tutti i vigneti sono incastonati tra il promontorio e il parco nazionale del Circeo e le colline di Ninfa e dei monti Lepini ed Aurunci. I Giannini sono oggi i maestri vinai del Circeo che da anni donano vini tipici e sorprendenti che trasmettono le emozioni del lavoro nei vigneti e che esaltano le tipiche fragranze della zona di origine. Arte e mestiere si fondono in un territorio ricco di bellezza. Cantina Villa Gianna sorge nel centro Italia in una delle zone più note del Lazio, Sabaudia di Latina, a soli 75 chilometri a sud di Roma ed è circondata dalle fantastiche bellezze naturali delle isole pontine, dei giardini di Ninfa, del parco nazionale del Circeo e della riviera di Ulisse. La zona di produzione con il suo microclima, la passione per la viticoltura, l'esperienza nella vinificazione, l'attenzione al consumatore e la scelta del giusto packaging, fusione tra tradizione e futuro, fanno della cantina Villa Gianna un'unione inscindibile tra ambiente e uomo in terra pontina. Ogni bottiglia racconta i valori del territorio che si fondono con gli investimenti e la ricerca continua per l'ottenimento di un vino unico e sorprendente. Valorizzando le pregiate uve della terra, i proprietari della cantina Villa Gianna hanno fortemente voluto realizzare dei vini che parlassero dei luoghi di origine, lasciando un segno indelebile della loro passione e qualità. Nel 1960 la famiglia Giannini acquistò un potere, un podere, portando con sé la prima barbatella, ossia la pianta della vite, e così divenne pioniera della viticoltura della distesa pontina. Nel 1986 iniziarono le prime conversioni varietali e furono trasformati i produttivi tendoni in qualitativi filari, sperimentando nuove cultivar. Fu così che la famiglia Giannini, pioniera della viticoltura pontina, decise di dar vita a una propria cantina che prese vita il 24 luglio 1994 con il nome di Villa Gianna. Poi vinificò la sua prima vendemmia nel 1993-1994 e partì un lavoro di perfezionamento continuo dei suoi vini, dallo Chardonnay al Merlot e Cabernet, il Trebbiano e la Malvasia, il Moscato di Terracina, il vino Novello e il vino passito da meditazione, senza mai distogliere l'attenzione dagli spumanti e dai frizzanti. La cantina Villa Gianna ha ottenuto menzioni al Vinitali ed è inserita nelle guide del Gambero Rosso, di Luca Maroni, del Veronelli, dei Duemila Vini, di Slow Food, oltre ad aver conquistato riconoscimenti in selezioni internazionali. Infine sono disponibili, per chi volesse, visite in cantina con degustazioni, visite ai vigneti, alle cultivar e ai sistemi di allevamento.